Cuore buongiorno, buongiorno, ci mettiamo in moto, presto, in questi giorni stavo a Peppe e quindi approfittava, niente, mi sono venuto a fare colazione e ora vado a prendere Giuseppe eh sì, un altro di oggi a scuola, poi domani 2 giugno è festa, sabato è festa, domenica è festa tre feste, tre feste, eh vabbè, scattano gli occhiali stamattina, eh, molto ricco mettiamo gli occhiali, non c'è troppo sole, occhi, occhi e niente, cuore, poi ieri sera sono stato a vedere la partita, ho visto la Roma ieri col Siviglia sono arrivati i rigori, la Roma ha perso, 5 a 3 mi sa, e i rigori, una bella partita secondo me meritava di vincere la Roma, purtroppo poi sono arrivati i rigori, poi la Siviglia c'è il portiere quello del Marocco, Bounou, eh, è un bel portiere diciamo che la Roma ha avuto qualche occasione in più da gol che comunque è stata fermata anche da Bounou, va bene, senti, questo doloretto qua va ben normale, cuore, perché leggevo che ci può essere qualche doloretto nel post operazione, insomma, perché è normale sempre, però con qualche antidolorifico va via, e poi niente, poi ti toglieranno i punti, sicuramente ti hanno messo tre punti di sutura per chiudere la ferita, e te li toglieranno, ma non so quando potrà essere utilizzato, se si utilizza da subito, o bisogna aspettare che, che bisogna aspettare prima bisogna togliere i punti, e poi bisogna utilizzarlo, non ho idea cuore, non ho idea, eh, vabbè loro sicuramente sapranno che cosa fare, insomma, va bene, va bene, mi sa che attività fisica credo che la si possa comunque fare, ma molto, molto, molto leggera, quindi non so cuore adesso se ti faranno fare qualcosa oggi, eh, acqua niente, non bisogna bagnarla, eh, devono passare almeno una decina di giorni, eh, basta cuore, eh, vabbò, questa mattina è un po' prestito, eh, sì, alle otto vado a prendere Giuseppe, sulle otto meno un quarto, eh, vabbè, domani si, si va a vedere sta partita, speriamo, 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 dai, domani siamo vicini, di cuore, eh, va bene, eh, beh, cuore mio, ci sentiamo dopo, va bene, fammi sapere come va, ok, cuore, beh, a dopo, forza voglio, forza, eh, un bacio, un cuore, e un abbraccio, vedrai che adesso con, con il power porto, sarai, starai bene, non avrai più problemi alle braccia e quant'altro, beh, ciao, cuore mio a tutti, ciao.